di prima mattina, prima di andarmene a letto, prima mattina loro, prima di andarmene a letto io. Quindi vediamo se arriva qualcuno, perché parlare a vuoto non è che sia molto divertente. Il tema di oggi, che ovviamente mi ha un po' colpito, l'ho seguito poco, ma l'ho seguito credo abbastanza, dopo di che ho visto che tutti si ripetevano, quindi ho deciso che avevo visto quello che dovevo vedere, e ovviamente che cosa? Beh, è questa vicenda della creazione della superlega fra i club più importanti, più visibili, di tre paesi, Spagna, Italia e Inghilterra. L'iniziativa viene un po' da tutti, ma sembra che gli spagnoli e gli italiani, cioè in particolare Real Madrid e la Juventus, ovvero a Florentino Perez e il signor Agnelli, uno dei tanti signori Agnelli di cui è piena l'Italia, siano iniziatori di questa cosa. E ho visto che neanche a dirlo, cosa prevista, tutti si sono incazzati. Tutti no, quasi tutti. Una buona maggioranza si è incazzata brutalmente, perché gli hanno portato via le grandi squadre del campionato. Non gli hanno portato via il campionato. Una serie di imprese private, tre italiane, sei inglesi, se capisco, tre o quattro spagnole, non ho attrollato bene, con alcune altre opzioni possibili, Paris Saint Germain, i tedeschi sembra non ci stiano, hanno deciso di farsi una lega allora. E l'ho fatto, dicendolo brutalmente, per motivi economici e cioè perché gli rende di più, perché si sono stancati di perdere soldi giocando con altre squadre nei campionati nazionali di antica memoria e hanno deciso che siccome l'Europa esiste loro si fanno un campionato europeo. E sono insorti tutti. In questa insorrezione abbiamo visto l'elegante, il posato, l'acculturato, il ministeriale Enrico Letta, dire le stesse cose del volgare, populista, destrorso Boris Johnson. E cioè, mio Dio, che scempio ci portate via il campionato, perché il calcio è di tutti, appartiene a noi. A voi chi? Ai segretari del PD? Le squadre di calcio appartengono a chi se le compra, piaccia o meno, sono delle imprese private che fanno soldi, e tanti anche. Oh, abbiamo un ospite, bene, bene, bene. Quindi questo mio ha sproloquiare un po' da solo, adesso un po' attenuato, c'è un ospite, ciao, benvenuto. Mi rendo conto che alle otto di mattina non ci sia poi tanta gente su Twitch. Amo gli esperimenti, amo un po' gli esperimenti azzardati. Vorrei riflettere un attimo quello che succede. Esiste uno strano strumento monopolistico chiamato FIFA a livello mondiale e UEFA a livello europeo, il quale fa enormi profitti, che distribuisce a famiglie, gente del giro, ciao a tutti, ciao, ciao, vedo arrivi. Perché ha il monopolio di una serie di campionati. Poi ci sono le leghe nazionali che a loro volta dipendono e si collegano all'Unione Europea. Hanno più o meno intrallazzi politici. Ne hanno fatte un po' di tutte. Abbiamo visto scandali di ogni tipo. Birretta e cornetto, esattamente, fat sound dog. Birretta e cornetto. Io birretta per me, cornetto e caffè per voi. La birretta della sera me la sto giusto versando, anzi, visto che adesso stanno arrivando un po' di persone. Approfitto, faccio una pausa e la verso. Eccola là. Ho fatto un esperimento l'altro giorno, il giorno di Pasqua, ho avuto qui un po' di studenti, anzi parecchi studenti, il primo e il secondo anno che non l'avevo conosciuto. Quindi li ho invitati per un barbecue. A loro non ne fregava niente che era la Pasqua, la metà erano cinesi, l'altra metà comunque non sanno cosa era la Pasqua. E mi hanno portato tutti una grande quantità di birre. Fra cui questa, che mi ha un po' impaurito, perché non l'ho toccata fino all'altra sera. Dico, boh, sarà una roba tremenda. Ma invece è bevibile, per cui stasera ho bevuto la seconda. Allora, dicevo, questa cosa della Superlega europea, no? Visto che ci sono delle persone in rete, provo a provocare voi. Io trovo l'insurrezione dei politicanti, letta in testa, ma stavo dicendo, ho seguito, guarda caso, da Johnson, per cui destra e sinistra, quello volgare, populista, quello tutto molto fighetto, che fa finta di essere un intellettuale, lui sa un cazzo. Tre volte che mi è capitato di discutere, ci ho scoperto che c'è la spessore intellettuale della carta avelina, a gridare che non gli possono portare via il calcio. Ma non gli portano via il calcio, ci sono semplicemente delle imprese che hanno deciso che siccome stanno perdendo valanghe di soldi, e hanno un prodotto che secondo loro vale molto, è da un mercato mondiale, vanno a cercare di vendere quel prodotto in un mercato che li consideri lì. Allora vorrei capire perché, io capisco perché, ma mi piace discutere perché c'è questa insurrezione popolare. Guardate a pensarci, secondo voi perché Florentino Perez aspettavi me e gli altri DLO sinceramente? No, questo è il mio canale, sono i miei esperimenti, sono le otto di mattina. Perché Florentino Perez che sta perdendo centinaia di milioni all'anno a causa della pandemia, delle varie restrizioni, del fatto che fondamentalmente è una squadra costosissima che gioca gratis o quasi, per i signori della UEFA. Perché lui deve continuare a perdere soldi? Perché qualcuno vuole circenses, visto che il governo non dà pane, diamogli circenses a Madrid, o a Torino nella forma di Juventus, o a Milano nella forma di Inter e Milano. Perché? Perché devono farlo? Proviamo a crederci, perché abbiamo tutti quanti scatenato i nostri istinti animali e guerreschi da anni, da decenni, identificandoci con i club per cui siamo tifosi? E' una scelta nostra. A me piaceva molto Fabrizio De Andrè. Questo mi dava dei diritti su Fabrizio De Andrè. No, è un'emozione mia che mi piace Fabrizio De Andrè. O Guccini, o chi volete voi, o Britney Spears, o l'ultimo rapper del cazzo. Perché questo mio sentimento, emozione, è mio desiderio di pagare, perché costui, o costei, canti per me, si esibisca, mi faccia delle canzoni, perché questo mio desiderio di adorare qualcuno, di venerarlo, di ammirarlo, dovrebbe costringere questo qualcuno a fare ciò che voglio io. Proviamo a pensarci. No? Non c'è alcuna ragione perché questo avvenga. Questi sono delle persone che fanno un'attività sportiva, lo fanno con estremi sforzi, sono persone molto dotate, estremamente aggressive, nel caso specifico tutti maschi, alto testosterone, enorme, muscolatura, grande fatica, molto antipatici, se devo dire. Io sono uno di una certa età, mi piaceva Mazzola, tutto uno stile diverso dal Rolando, o Rolando, come cazzo si chiama, il super centro avanti, o alla sinistra che sia della Juventus. No? Vabbè, ma non importa, piacciono, offrono un prodotto di spettacolo, giocano questo sport in una maniera che piace e quindi le persone si innamorano e scaricano su di loro il loro testosterone, le loro voglie, tutti panciuti come me con la birra e gli sembra a tutti di essere Ronaldo. Bene, e perché Ronaldo, che avete riempito di soldi e che costa una cifra, dovrebbe accettare di stare a giocare laddove la compagnia per cui lavoro, l'impresa per cui lavoro, perde soldi e quindi probabilmente chiude? Perché il campionato è una roba nazionale, perché vedete su quello, quando ho letto la notizia ho detto esploderanno i nazionalismi, infatti sono esplose. Eh no, il campionato è mio, è come la bandiera. Fra un po' vedrete che qualcuno dirà di nazionalizzarli o qualcosa del genere. Pensateci, pensiamoci un attimo a questo livello di follia, no? C'è uno sport che tutti possono praticare, ci sono tantissime persone che lo praticano e ci sono persone che lo praticano meglio di altri. Alcuni hanno messo dei soldi, hanno creato dei club e questi club negli anni, nei tempi sono cresciuti, sono diventati l'Inter, eccetera, eccetera. Alcuni sono controllati da privati, altri no, perché uno dei club che ha aderito a questa cosa è il Barça. Il Barça non è posseduto da Florentino Perez, il Barça e il Madrid sono proprio i due estremi politicamente, simbolicamente, eccetera, ma in Spagna sono i due estremi perché il Barça ha una base societaria enorme e fondamentalmente dei suoi tifosi. Nel Consiglio di Militazione è stato che il mio amico c'è a Versali Martin, no? E quindi perché questi devono fare una cosa controvoglia che gli fa perdere soldi, che non gli fa guadagnare, che non li fa neanche divertire perché alla fine è come giustamente diceva un amico mio spagnolo stasera discutendo della cosa e diceva ma sai a chi viene fotte dell'ERR Madrid a giocare col Getafe? Il Getafe è una cittadina al sud di Madrid dove c'era vista che conta francamente il Getafe e conta meno di niente. E' molto più divertente guarda il Madrid che gioca col Manchester United un paio di volte all'anno con l'Inter un paio di volte all'anno con la Juventus con il Paris Saint Germain con l'Arsenal con il Chelsea un paio di volte all'anno e il Barcelona lo stesso no? Perché questi? Perché? Perché esiste un sentimento tribale per cui siccome sono italiani spagnoli inglesi devono giocare con le altre squadre spagnoli italiani inglesi perché altrimenti quelli dell'Atalanta o del Venezia si arrabbiano ma perché? C'è la Champions League? No la Champions League è controllata dalla UEFA perché? La domanda è perché un'impresa come il Barca con dei soci non può decidere di fare quel cazzo che vuole e questa è la domanda è banalissimamente questa ma non so cosa andrà a minare vedetevi fate tutti delle domande io faccio una domanda molto più elementare 12 o 15 società private con forme azionari e societarie diverse alcune strettamente controllate dal Parun come il Real Madrid altre controllate da una grande assemblea di soci come il Barca hanno deciso di fare una cosa di alta spettacolarità perché siamo tutti d'accordo che sarà di alta spettacolarità con contratti televisivi mondiali enormi che si godranno centinaia di milioni di persone e sarà molto più divertente da guardare giocando fra di loro i più bravi dell'Europa allora quello che mina quello che non mina a me è fotte meno di zero nel senso che è concorrenza il Venezia avrà meno spettatori perché non giocherà più con l'Inter o con l'Ojuventus mi dispiace per i padroni del Venezia capita si chiama concorrenza questo è la concorrenza al lavoro nel campo del calcio i controllori della concorrenza quelli che la impedivano gli oligopolisti della UEFA che assorbono gli enormi profitti del calcio europeo e se li tengono in tasca o li distribuiscono fra i loro famigli hanno detto che non gli piace perché questa cosa gli fa saltare la concorrenza è come se è esattamente come se una serie di bravi artigiani che si sono rotti le balle della Confederazione degli Artigiani che facendo finta di proteggerli impedisce la concorrenza gli fa guadagnare meno di quello che possono protegge gli incapaci distribuisce i profitti e il surplus ai famigli e dicessero senti mi sono rotto le balle io sono più bravo degli altri e faccio quello che voglio è questo che sta succedendo e arrivano i Leta sono sicuro che sarà arrivato anche Salvini io ho visto solo il tweet orrendo di Leta che l'ha capito un cazzo poverino perché l'ha capito come funziona l'NBA e il fatto che abbia deciso che l'NBA il metodo NBA non può applicarsi al calcio europeo si sbaglia perché sembra applicarsi già al basketball europeo poi vedremo come lo faranno se lo faranno bene se lo faranno male è un'attività economica è un'impresa stanno cercando di fare un'impresa stanno cercando di fare un'operazione vediamo se andrà bene io non gli auguro né bene né male ma il calcio mi interessa relativamente poco in tutto questo mi interessa la stupenda populista generalizzata sovranista nazionalista isterica reazione di politici e popolino ai quattro anni dell'Europa che fondamentalmente dice guai a chi vuol far meglio anche Conte l'ha fatta ecco grazie adesso vi ascolto siamo diventati 150 e allora vedo questa roba della mattina questa mezz'oretta prima di andare a letto tra l'una di mattina e l'una e mezza mia funziona ne farò una regolarità per il martedì o giovedì tutte le sere che posso quindi i miei lunedì sera e mercoledì sera i vostri martedì e giovedì mattina allora dicevo si dico non dici che vince lo scudetto allora davvero vorrei capire quali sono i motivi perché a me sembra appunto populismo becero da parte dei politici questo dovrebbe fare riflettere la gente è mai possibile che in un paese ridotto come l'Italia mi ricordiamo che ci siano il segretario del partito di fatto maggiore perché anche se teoricamente in parlamento formalmente il partito della casaleggio il lemming della casaleggio sono una maggioranza il partito di fatto dominante politicamente è il PD allora il segretario di questo partito si scatena a scrivere scemenze sbagliando tra l'altro sul fatto che il calcio secondo lui vale perché perché non c'è la concorrenza perché c'è l'Atalanta con tutto rispetto se non sbaglio l'Atalanta è la squadra di Bergamo poi confonde e mette l'Ajax con l'Atalanta tesoro l'Ajax ha vinto quattro coppe campioni l'Ajax è la squadra di Cruyff a mio personale avviso il mio giocatore di tutti i tempi quindi date una regolata all'ETA almeno chiedegli a quello che ti fa il media come cazzo si chiama insomma quello che ti scrive i tweet che si informi prima di scrivere i tweet cretini ma comunque non importa il punto non è che l'ETA o il signorino o la signorina che lavora per l'ETA scrive cazzate sul calcio e sull'NBA il punto è che decide di scriverle come se fosse una questione politica no non lo è non è una questione che ha a che fare con la politica non è una questione che ha a che fare con lo Stato non è una questione su cui voi dovete intervenire è una questione che non vi riguarda ha a che fare con delle attività private e il mondo creato la società civile ha ancora qualche suo miserrimo diritto e se qualcuno vuole giocare al calcio col Manchester United invece di giocarlo con il Valladolid ha tutto il diritto di farlo e se qualcuno vuole giocare al calcio con il Real Madrid invece di giocarlo con il Venezia o con il Catanzaro o con quello che volete voi ha tutto il diritto di farlo è una cosa banale è una cosa banalissima alcuni gruppi di persone liberamente hanno deciso di fare una cosa piuttosto che un'altra perché pensano che gli conviene nel caso specifico tra l'altro si ribellano a un'imposizione semi-mafiosa corrottissima dei platini di questo mondo svizzero della UEFA che è in realtà corrottissimo e che si mangia tutti i profitti di queste squadre utilizzando il suo potere di monopolio quindi c'è anche se volete analizzare la componente economica la componente economica è ovvia è ovvia lontano 50 km che fanno bene a mandarli a fare in culo capite fanno assolutamente bene economicamente parlando è una ovvietà quindi lasciamo stare la parte economica mi auguro per loro che lo facciano bene che non facciano sbagli che creino una lega competitiva concorrenziale dove tutti i team possono insomma che lo facciano in modo a creare spettacolo così lo possono vendere in Cina in Australia in India dove diavolo saranno gli Stati Uniti e così via ok tra l'altro una lega fatta così potrebbe essere per il grande livello del gioco una maniera stupenda di vendere il calcio a livello mondiale ancora di più di quanto non si è venduto quindi ma non è una lega super esclusiva vedi a Aislin 86 non c'entrano niente i miliardari non c'entrano niente questi cioè non è che questi nascono ricchi cioè non è che Ronaldo nasce ricco vedete purtroppo o Messi nasce ricco chi chiavolo sarà chi sia la stella dell'Inter perché una volta ti favo non lo so se uno con un nome comincia per L ma non me lo ricordo ok quindi non è che questi nascono miliardari questi davvero sono diventati miliardari perché giocano meglio degli altri allora il fatto che siano miliardari milionari adesso non esageriamo no no l'ho detto prima è una birra strana che mi hanno portato gli studenti quando gli ho fatto un barbecue per conosci gli studenti del primo o secondo anno avevo terrore di berla una cosa che si produce solo qua e invece l'ho bevuta magari è vietato da Twitch quindi meglio che non faccia sti gesti chi lo sa ritorniamo al punto tra l'altro questi non è che siano miliardari per definizione sono diventati per i ricchi giocatori per chi giocano bene e perché ci sono milioni di persone disposte a guardarsi le loro pubblicità andare a guardare le loro partite comprarsi i loro budget capisci cioè solo perché alla gente piace non per me perché io buongiorno a tutti perché da me a me me ne frega meno di zero spendo zero per guardarmi il caccio ma milioni di persone appassionano va bene non sto a discutere questo il punto è che questi qua che lo fanno come attività economica come lavoro resosi conto che ci sono centinaia migliaia di milioni di persone che sono appassionati a quello che fanno hanno deciso di farlo in una maniera tale che gli rende di più e che lo rende attraente ai cinesi ai giapponesi agli indiani agli americani questo hanno deciso di fare ah beh allora non ubriaco perché non so è la prima birra mia stasera ah sì è vero infatti vedo che gas gas è sul punto gli europei si sono messi tutti vedete questo è il punto io la riflessione in realtà che la volevo fare stasera poi mi sono messo a parlare un po' in generale della questione era di perché questi politici di merda si sono messi a parlare di questa questione e lì è l'essenza del populismo capite l'essenza del populismo sta nel permettere che questa gentaglia invece di occuparsi del paese dell'economia della sanità degli ospedali che non funzionano dei vaccini che non arrivano a cui dovrebbero dedicare 24 ore al giorno 7 giorni a settimana Enrico Letta incluso si mettano a blaterare di quello che fanno i giocatori di calcio i quali si fanno i palloni propri e questo è il punto è banalissimo il signor Letta non c'entra nulla il signor Johnson non c'entra nulla il politicante spagnolo di turno il Pedro non c'entra nulla con quello che fanno i giocatori di calcio quello che fanno i giocatori di calcio sono cazzi dei giocatori di calcio Gaetano Alfa guarda mi sa che ti vizierò ho deciso che siccome tiro tardi all'uno mi voglio rilassare mezz'oretta o un'oretta tanto io prima delle due non vado a letta mezz'oretta o un'oretta di live alla mattina sul tema del giorno lo farò il lunedì il mercoledì il venerdì scusate lunedì mercoledì e venerdì con i ragazzi di Economia Italia a parlare di economia a fare un po' di lezioni rispondere alle domande e invece il martedì e il giovedì a Ruota Libres poi gli altri giorni magari no adesso vediamo cosa faccio la sera a St. Louis beh dopo cena leggo fondamentalmente leggo scrivo ho appena finito una videoconferenza di due ore e mezzo con dei coautori a St. Louis in cui abbiamo lavorato pesantemente per cercare di capire cosa succede con medie mobili di 5 anni con i dati americani di ciclo se la produttività è correlata con la quota di capitale nel reddito nel valore aggiunto o meno e poi ho detto vabbè ragazzi vi saluto e avevo deciso di fare questa piccola chiacchierata perché questo tema di oggi questa esplosione insomma questa decisione non è che mi abbia sorpreso quando l'ho vista la notizia ho detto succederà così ed è successo esattamente quello che dicevo però occorre davvero un po' ribellarsi capite occorre un po' ciao Vale occorre ribellarsi a questa cosa che il politicante deve mettersi a parlare cercare di guadagnare voti fare del populismo anche su quello che fa la squadra chiamata Milan non c'entra nulla capite non c'entra nulla è semplicemente un cialtrone che si infila e cerca di rovinare di impedire attività e decisioni private di persone che hanno il diritto di prendere queste decisioni perché vuole stuzzicare l'appetito dei tifosi delle squadre più piccole il nazionalismo che si risentono del fatto che la squadra più grande più famosa più brava è andata a giocare altrove ma perché capite che è la negazione più totale della meritocrazia è come quello che ti dice a scuola no tu non puoi andare nell'altro liceo non puoi andare a studiare all'estero perché sei più bravo devi stare qua con me per aiutare me a farmi i compiti per casa perché altrimenti se tu non mi fai i compiti per casa io non passo l'esame ma cazzi tuoi ma cazzi tuoi capite cioè se il Venezia non avrà più spettatori perché dovrà giocare con il Padova e non potrà giocare con il Milan è un problema del Venezia vorrà dire che i giocatori che giocano nel Venezia non sono bravi spettacolari abbastanza da attrarre le persone ok perché vadano a guardarli vuol dire che non sei divertente se mi metto a cantare io scappano tutti e allora e allora cos'è siete obbligati a starmi ascoltare se canto no ovviamente mi mandate a quel paese andate a ascoltarvi uno che sa cantare anche Carlo Cotarelli ma non mi sorprende non mi sorprende ciao ora t'ha negata saluti a Marghera dove Marghera ok sì infatti e di Navalli non si occupa nessuno protestano perché il Crotone non va più a calcio con la Juventus perché la Juventus ha deciso che lei gioca a calcio con il Chelsea wow vi rendete conto a che livello sta arrivando il populismo dei politicanti italiani e non e non perché nel resto dei paesi europei coinvolti sta succedendo la stessa cosa sta succedendo la stessa cosa e questo è il problema quindi il problema in Italia è solo più accentuato mi sono mangiato lunghi scusate basta questa è la riflessione il punto rilevante di questa storia della Superlega non è che questi si fanno la Superlega che la Ocaso ovvia come diceva infatti di nuovo il collega spagnolo esperto di calcio che ho consultato sugli aspetti infatti sono interessanti aspetti economici di questa cosa ma non ne discuterò stasera sono interessanti aspetti economici rispetto proprio all'esperienza NBA NBA e così via ma non discutiamo perché mi interessa più l'aspetto politico sociologico è l'una e 25 della mattina Max quindi l'aspetto che mi interessa è questo e cioè che questa continente è così ridotto male che la grande maggioranza perché i 170 180 che sono qua con me stamattina e le altre migliaia che ascolteranno probabilmente forse avranno spero anche delle opinioni diverse me ne diranno però tenderanno a coincidere col mio punto di vista la grande maggioranza invece dei milioni fuori riterranno l'intervento del politicante in questa questione che non lo riguarda come legittimo perché perché il calcio è proprietà mia e quindi e fatela tu la squadra capite è la negazione no non è solo che il calcio è l'oppio dei popoli Giuseppe forse è anche vero è la negazione della meritocrazia è una forma di socialismo egualitarismo bastardo che dice a quello più bravo tu non puoi essere più bravo tu devi smetterla di essere più bravo tu devi stare qua con me ed essere mediocre come me perché guai a te se muovai a giocare con quelli bravi come te perché il tuo andare via mi toglie cose toglie e ti toglie quello che non mi paghi perché starei qua se tu mi compensassi è così guardate che è la stessa cosa è la stessa ragione per cui i mediocri si incazzano perché quelli più capaci che si stancano di essere sfruttati di essere utilizzati di non essere valorizzati se ne vanno è la stessa cosa è la stessa cosa Letta e Johnson e tutti questi che protestano perché la Juventus il Madrid e il Chelsea vanno all'estero a giocare con squadre esteri invece è la stessa cosa del mediocre che dice loro se ne vanno la fuga dei cervelli perché saranno più bravi è perché devo stare lì visto che non mi riconosci il fatto che i miei meriti le mie capacità sono quelle che tirano la baracca che tirano il treno che tirano il carretto mi è venuta la metafora sbagliata che tengono in piedi la baracca che fanno andare il treno che tirano il carretto è la stessa cosa del bilancio su polisi brutali ti ho già parlato ne parlerò un'altra volta ho questa abitudine che se decide un tema sto sul tema è questa la reazione è ancora una volta la prova che stiamo diventando vittime vittime e succubi dei mediocri i quali sono la maggioranza e non riusciamo a fargli capire che se impongono la loro mediocrità come criterio su cui misuriamo tutto dal calcio alla politica dalla scuola alla ricerca alla produttività se il mediocre che è la maggioranza fisica perché lo è diventa anche la maggioranza politica controlla il dibattito impone i criteri il mediocre ci distrugge perché qualcuno fuggirà gli altri rimarranno succubi del mediocre che gli imporrà di diventare mediocri come lui e questo è il punto e questo è il punto certo è così ovunque sul lavoro quindi la cosa da capire in questa vicenda della superlega è proprio questa la rivolta contro la superlega è la rivolta della mediocrità è la mediocrità che chiede di dominare che ci impone di essere mediocri che dice no io mi rifiuto che tu sia bravo io mi rifiuto di riconoscere che tu sei meglio di me perché uno vale uno è il trionfo della casaleggio di Di Maio di Grillo di questa banda di stronzi questo è punto non c'è altro da vedere in questa cosa è il rifiuto di riconoscere che ci sono alcuni che certe cose le fanno meglio di altre e invece occorre spiegarglielo in ognuno dei campi delle attività umane dell'arte della conoscenza del lavoro dello sport di tutto quello che volete voi del canto ci sono alcuni di noi che le fanno le cose meglio degli altri e gli va riconosciuto questo fatto quanto gli va riconosciuto dipende il fatto che gli sportivi siano diventati multimilionari dipende dal fatto che tantissime persone si appassionano a loro se individualmente non ti va ti guadagnano tanti soldi non darglielo ed è la rivolta e ragione Bullas Pizzi madonna ma potete inventare dei nomi migliori che almeno riesco a leggerli e la rivolta contro chi tira la carretta e fa guadagnare gli altri perché infatti l'argomento qui esplice a tutti a dire ma se se ne va l'Inter se se ne va la Juventus se ne va il Milan se ne va il Real Madrid allora il mio campionato di calcio non vale più che vuol dire il campionato di calcio vale perché ci sono quelli bravi infatti è l'applicazione concreta di una cosa su cui da anni rifletto e non scrivo un po' per timore un po' perché mi sembrano cose anche un po' scontate e cioè che lo smart segment quel 10% 15% 20% che fa le cose bene è quello che tira la carretta per tutti va bene questo è e mentre i Letta e i Johnson e sono sicuri i Salvini e i Franceschini dicono puttanate sulla questione del calcio del PNRR non sappiamo niente la gente muore eccetera 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 un paese in crisi e questi non hanno nulla a dire perché sono dei mediocri capite il politicante italiano è un mediocre è un incapace è un fallito è un inutile è uno che nel settore privato non vale nulla è nulla che non si è mai confrontato a produrre nulla e quindi ovviamente salta su episodi del genere per vendere il populismo e Mentana gli altri giornalisti fanno l'appello e non me lo immaginavo non l'avevo visto ma non avevo dubbi che Mentana si sarebbe messo a cavalcare lo stupido populismo ma certo perché lui ha il diritto di guadagnare qua e là il giocatore di calcio il padrone della squadra di calcio no sono servi suoi devono stare lì a giocare con l'Atalanta quelli dei Bergamo mi diranno oggi non so perché mi viene a mente l'Atalanta l'Aspal fate voi il Venezia il Pado il Vicenza se non lo vuole va bene anche Draghi è ceduta cioè si è messo anche lui a dire cretinate no spero di no spero che almeno Draghi sia stato zitto sul calcio ancora un minuto poi vado via ho promesso mezz'ora mezz'ora e l'1 e 31 no adesso però facciamo due chiacchiere madonna 200 persone alle 8 e mezza mattina allora vediamo un po' dei commenti inno alla mediocrità sì sì questo è successo vorrei anche aggiungere una cosa che poi questa cosa potrebbe anche fallire in realtà un rischio che questi si prendono nel senso che o lo fanno bene o il livello del gioco è alto o l'intrattenimento è alto oppure il cinese o se volete voi giapponese di turno a cui stanno cercando di vendere il prodotto potrebbe anche scocciarsi non è detto che gli piaccia per forza quella cosa fatta così magari non viene bene i soldi non li fanno per cui c'è anche un rischio di impresa in questa operazione non è un'operazione scontata in cui però ci provano mi sembra legittimo che ci provano tra l'altro Florentino Perez da quello che ho capito è stato molto esplicito ha detto sentite già eravamo in difficoltà già continuavamo a essere praticamente monti dalla UEFA perché tutto il valore aggiunto che noi creiamo costruendo le squadre poi se le mangia la UEFA i mafiosi della UEFA collegati alla politica questa cosa è la pandemia che ci ha costretto a giocare in casa a perdere l'attrattività della televisione la pubblicità ci ha distrutto quindi noi proviamo a fare una cosa che ci permetta di tenere il calcio in piedi tra l'altro tenete conto questa cosa è anche una maniera per tenere il calcio di alta qualità in piedi perché ovviamente se non riesce ad avere rendimenti se non riesce a creare spettacolo se non riesce a avere come dire l'interesse degli spettatori e vabbè la squadra si sfalda quindi non è neanche non è neanche una cosa così difficile da capire che le grandi squadre abbiano cercato di trovare un'uscita da questa situazione vedi Gaetano Alfa si e chi se ne frega e cioè il punto è il classico benaltrismo non sono puliti ma chi l'ha detto che sono puliti io non ho detto che sono puliti io ho detto che si fanno i cazzi loro c'hai dei problemi nel senso che ti sembrano che fanno gli interlazzi e non guardare le loro partite ignora le loro squadre non seguire le loro pubblicità violano la legge denunciateli fanno i falsi fiscali in bilancio denunciateli genialissimo ma a me sembra palese che era ancora in tempi che facevo le prime cose in rete con Alberto Forchielli che mi aveva suggerito questa cosa del Mila vi ricordate i cinesi probabilmente sotto c'è qualcosa in marcia hanno indagato le hanno trovate si hanno fatto delle porcate che le mettono in galera no? no non dover di cronaca Gaetano Alfa è populismo anche il tuo lascia che te lo dica perché stiamo parlando di un'altra roba a me me ne frega niente che il Chelsea che non seguo abbia avuto questa o quell'altra chiacchiera sul comportamento etico o non etico del suo proprietario è irrilevante perché se devo guardare il comportamento etico di Letta Salvini nel politicante medio li metto tutti in galera e non hanno più il diritto di parlare quindi cosa c'entra? il fatto che ci siano dei dubbi o delle questioni o delle quello che volete voi sul comportamento di una squadra o dell'altra dei padroni di una squadra o dell'altra implica zero sul loro diritto di fare con i loro capitali con i giocatori che hanno assunto eccetera eccetera quello che vogliono non c'entra nulla questo è basso moralismo da bar mi frega zero il Milan se fosse di Berlusconi non cambierebbe nulla Sorrentino Perez che alcuni miei amici spagnoli considerano uno simpatico e geniale io lo trovo antipatico ma non c'entra un cazzo ha comunque il diritto in quanto proprietario del Madrid di fare di prendere le decisioni che ha preso voglio capirla sta roba perché altrimenti il resto è invidia populismo chiacchiera mediocrità i padroni dei club europei non fanno politica non chiedono di governare il mondo non chiedono il voto per avere potere sulla nostra vita hanno investito dei soldi le hanno fatti bene o male quello che è e gestiscono delle scuole di calcio questo fanno questo è quindi vi invito a riflettere vi auguro una buona giornata perché sono Juventus più 17% in borsa giustamente perché giustamente dal punto di vista economico questa cosa conviene alle scuole quindi su questa riflessione che ripeto ha poco a che fare con i criteri economici di questa scelta la Superlega magari ne parleremo in futuro quando sarà più chiaro cosa intendono fare quali altre squadre a mio avviso è un po' piccolo il gruppo sono solo tre paesi ci sono tante squadre grosse fuori i tedeschi hanno deciso di stare fuori insomma c'è anche del rischio in questa operazione quella lasciamo stare io vi auguro una buona giornata io vado a letto a dormire e mi invito a riflettere su che livelli siamo arrivati di un paese di un continente di fatto di un continente in cui alcuni agenti privati che si occupano di sport decidono di organizzare un torneo fra di loro per come dire valorizzare i loro acquisti i loro giocatori e i politicanti di turno incitano le masse a impedirle a questo siamo arrivati e io lo trovo preoccupante vi auguro una buonissima giornata grazie 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 e ci vediamo domani mattina ci vediamo domani mattina in cui però faremo una lezione serie di economia applicata buona giornata